Benvenuti amici, io sono Salopinipos e oggi siamo su Last Shelter Survival Un gioco di sopravvivenza e già iniziamo così attaccati da tutti gli zombie di sto mondo Allora, inizia, clicco qua, andiamo a riparare, va così non entra più nessuno Barriera divisoria, ripara, oh, andiamo a riparare, forse ripara Un gioco di sopravvivenza dove dovremo appunto sopravvivere Ma va, ma va, ah intanto resistete Il muro di natura di riparazione verrà riparato pre Oh bravo, andate a lavorare perché qua altrimenti moriamo tutti, va, più veloci però Tu che fai qua di guardia? Chi è? Come combattente Nick, capo, dovresti venire a dare un'occhiata Che è successo? Non mi fai preoccupare, che è successo? Andiamo nel bunker Chi, chi sei tu? Ada Eh, chiunque voi siate, dateci una mano Il rifugio è rimasto senza cibo e senza munizioni E chi se ne frega Possiamo sconfiggere l'ondata di zombie e recuperare i rifornimenti di base del rifugio Eh, siete benvoluti nel rifugio, basta che vi assicurate che i sopravvissuti siano al sicuro Abbiamo bisogno del vostro aiuto, dobbiamo trasformare questo posto nel centro comandi Questo centro diventerà il nostro punto di partenza Vabbè, come sempre ci devo pensare io, giusto? Mi sa che ho capito così Allora, e clicchiamo qua Allora, requisiti, facendo salire di grado la base è possibile sbloccare nuovi edifici e funzionalità Abbiamo bisogno di tre grano e 130 legni Costruisci, perza, avanti, dai Veloci però Sembra che questa sia la nostra futura casa E vabbè Basta che siamo al sicuro Per me va bene Allora, fatto? Sì, perfetto Base di livello 1 è stato costruito Quindi dovremo cercare di fare il nostro accampamento E ovviamente proteggerci dagli zombie Giustamente Perché vedo che gli operai vengono continuamente attaccati dagli zombie Abbiamo bisogno della protezione di più soldati Andiamo a fare un po' di soldati, va Milità, abbiamo un sacco di cose da costruire qua Ovviamente ci serviranno delle risorse Fantastico, militare, forza Campo da... campo guerrieri Avanti, andiamo a fare il campo guerrieri qua Perché siamo a corto di... di artiglieria Pesante Clicchiamo qua Requisiti, base di livello 1 100 grano e 90 legni Forza Ogni tanto mi sposto col furgoncino per spostarmi... Con... nella mia base Ok, campo guerrieri è stato costruito Perfetto Apprendi quindi le unità Che è questo tizio? Esiliato A destra Ok, per 20 secondi Non è il momento di risparmiare risorse Usa al più presto l'addestramento rapido E dai, aumentiamo la velocità Forza, addestramento rapido Forza Perché qua gli esiliati mancano Oh, guardate, sono fichi Sembrano Superman Sembrano Batman Armati Forza, fronteggiatevi all'attacco zombie Guardate qui come li abbiamo massacrati Chiunque osi entrare alla mia base morirà Eh, il vecchio Tom intende quello che è appena morto Sì, ho affidato al vecchio Tom un incarico pericoloso Gli ho chiesto di portare la truppa a costruire la mura Esperienze semplici ci sono capitate già molte volte Credimi, sopravviveremo e il loro sacrificio non sarà bano Ok Fatto Fortunatamente abbiamo riparato il muro di separazione Prima che arrivasse il buio Altrimenti ci sarebbero state conseguenze inimmaginabili Meno male, oh Meno male Visto che fa fare Proteggere qua i combattiti Il lavoratore Tra poco sarà buio Bisogna illuminare la La cosa difensiva Si occupiamo la centenella elettrica sulla linea O Queste possiamo prendere l'energia e usarla per illuminare Va bene Dobbiamo arrivare qua È pieno di zombie Che facciamo? Che facciamo? Base di level 1 E 30 monete Banconote Ok Spand Ecco qui Con le torrette facciamo fuori di tutto e di più Adesso si Fatto Ci stiamo espandendo Quindi potremmo allargare sempre di più la nostra base E questo mi piace Va bene Costruiamo Ripara la strada Forse ripariamo un po' di strada qua Aspetta Ho capito Trascina Ok Qua E qua Conferma Fatto Abbiamo allungato un po' la strada Due strada abbiamo messo Bella illuminata Ok Ci siamo Ci siamo L'energia eolica è troppo debole Abbiamo bisogno di energia più potente E che dobbiamo fare? La Capitolo 1 La puntura della notte eterna Allora Obiettivo Espando il territorio L'abbiamo fatto Costruisce una centrale elettrica Dopodiché costruisce un pezzo di petrolio Carburante Vabbè Costruiamo la centrale elettrica Forse Centra elettrica Qui le centrali vengono su come i funghi Forse Conferma Oh Meno 70 banconote Dobbiamo lavorarci 75 di acqua Prossimo livello Costruisci per 5 secondi Forse Costruite la mia Fatela bella Perché qua rimaniamo Senza corrente Rimaniamo Fatela bella funzionale Non vorrei accendere altre candele Vero o no Direi di no Costruisce una centrale elettrica Fatto Quindi riscuotiamo Quello che mi spetta Costruiamo il pozzo petrolifero Costruiamo tutto Ma chi se ne frega Conferma Forse Dobbiamo mettere la strada Aspetta che adesso Conferma Clicca sul terreno Per riparare le strade Conferma per 10 Ok ripara sta strada Forse Forse ripara Allora Tutto Abbiamo tutto Costruisce Costruiamo Veloci pure Che sta piovendo E tipo Ma perché piove sempre Nei giochi dove gioco io Su minecraft Qua Piove ovunque piove Dove che gioco io Allora Carburante Non era acqua Era carburante Carburante è una risorsa comune Prodotta dai posti petroliferi Utilizzata per alimentare Centrali elettriche A petrolio Al tempo stesso E una risorsa Per l'aumento Di livello edificio Va bene Quindi Trasportiamo Trasportiamo un po' di petrolio Trasportiamolo tutto Forza Forza camioncini miei Forza Lavorate 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 che sta piovendo Allora Trasporto di carburante Alla centrale elettrica Fatto Riscuotiamo il nostro Oh Riscuoti qua Che è successo Che è successo Ah tra ore che ci clicco Quando spuntava freccia Me lo fate fare Va bene Eh Trasporto di carburante Fatto Completo Ritira le compense Capitolo Perfetto Questo capitolo L'abbiamo fatto Allora Vieni Perciati Abbiamo preparato Delle pallottole Ecco qua Ammazzate E fatemi ammazzare Gli zombie Mille cose da fare Capitolo 2 Vediamo che c'è da fare Mille Mille cose dobbiamo fare Quelli ammazzano così Ma dove è entrata Io fa scavate come le talpe Dov'è che sono entrati questi Che fa Volano pure Allora se possiamo fornire Vitte alloggi Sopravvissute La vicinanza Si aggiungeranno a noi Bene Vado a contare La questione della relazione Nick resta qui A rafforzare Le nostre linee Va bene Noi rafforziamo Va Potenziamo Perché qua Gli zombie Non so come Ma si precipitano dall'alto Oppure crescono come l'erba O come i funghi Interpretate voi Come va la situazione Allora Livello 2 Abbiamo sbloccato la fattoria Adesso andiamo a coltivare Poi stazione di trattamento Delle acque E la mensa Il camion di cibo Distriburrà il cibo e l'acqua Immagazzinati Ai residenti della città Mi piace Si prega conservare riserve E riserve sufficienti Va bene Va bene Sblocca Va bene Voto 5 stelle Dopo Fammi giocare per adesso Fammi giocare per adesso Allora Allora Che facciamo Buildiamo la fattoria Subito Perché abbiamo bisogno di cibo Qual terreno fertile a sud Era un tempo una fattoria Che ora rovina Se la conquistiamo La sfruttiamo Le risorse di cibo Non saranno più un problema Va bene Direi di farlo immediatamente Sblocchiamo Forza Allarghiamoci di più La mettiamo qua Qua Va bene Ti piace qua Mettiamoci pure la strada E mettiamoci la strada Conferma per 60 Quanto banco note ho io 912 Va bene Forza Costruisci Due secondi Meno male Finchè il tempo è poco È un bene Nonostante Siamo in un gruppo diverso Tutti hanno tirato fuori La loro forza Ma chi se ne frega Viaggia anziché parlare Che poi Ti confondi e sbandi E pago io tanto Fattoria del valore È stato costruito Va bene Riscuotiamo Mission complete Perfetto Costruisci la fattoria L'abbiamo fatta Poi costruisci Una stazione di trattamento Delle acque È un'area residenziale È una mezza Tutto dobbiamo fare Tutto Tutto Quindi trattamento acque Andiamo a buildare Forza Trattamento di acqua purificata Forza Mettimola qua Conferma La strada pure Questa è strada Perché non Perché non Va fatta senza strada Perfossare Stada volete Il camioncino Quel maledetto camioncino Costruisci 10 secondi Nel frattempo Andiamoci a buildare Anche Che cos'era Era l'area residenziale E la mettiamo Dove la infiliamo L'area residenziale Va bene qui Va bene qui Confermo Confermiamo La strada È pure la strada qua Ok Costruisci Veicolo dal segretario Alla costruzione Libero Adesso Vai Vai adesso Giustamente possiamo fare Un lavoro alla volta Questo è stato fatto Missione completata Ok L'area residenziale In costruzione La mensa Andiamo a costruire la mensa Forza Dove la mensa La mensa dove Costruisce altro Alimenti Popolazione Mensa Perfetto La mettiamo Non c'è Grossa sta mensa Quanto è grossa sta mensa Mettiamola qua Ok Conferma La strada Ci vuole la strada Giustamente Costruiamo Dieci secondi Adesso è tutto facile Da costruire Chissà dopo però Tipo ci vorranno due ore Per completare un lavoro Build Militare Possiamo costruirci Una torre È un pronto soccorso Il pronto soccorso Ce lo dobbiamo avere Assolutamente Che quasi ci fanno danno La tenda Il primo soccorso È un posto in cui Si curano i soldati feriti E ce lo dobbiamo avere Il cibo e l'acqua Vengono costantemente Consumati dal veicolo Di ristorazione Fa attenzione I rifornimenti Per tempo Ok Trasporto Allora dobbiamo Trasportare cibo e acqua Forza Trasportate qua Le cose Ve le ho costruite Per cortesia Utilizzatele Avanti Veloce questo camion Accelera Accelera Non è che hai paura Qua non passa Manca un gatto Non passa Perché hai paura Accelerare La carrozza ristora Attirerà i sopravvissuti vicini E qualcuno verrà a trovarci Pure Pure c'è chi mi vuole Sgraffinare il cibo Attenti con questo cancello Chiudete subito Che ci sono gli zombie Chiudi Chiudi Testa di capra Chiudi Ok Riforniamo qua Costuisce la menza L'abbiamo fatto Possiamo riscuotere A posto Veloce questo camion Non c'è sopravvissuto Abbiamo vagato Per questa macchina Rotta per diversi mesi Chi Oh che volete Ho mangiato abbastanza Carne di topo Qualcuno può darmi Del cibo vero Tutti in fila Per favore Prendi il cibo a turno E non fare scherzi Perché altrimenti Non te ne do Ora solo il cibo Può portare un po' di conforto Negli ultimi giorni Ok Diamo un po' di cibo a tutti Il cibo è davvero fragrante Lo dirò ad altre persone Su di te Il comandante Sei pronto per mangiare e bere Ci saranno più persone in arrivo Oh ma piano però Non è che ho tutte ste risorse La fornitura di forniture È stata temporaneamente risolta E puoi pianificare Il futuro della base Va bene Questo l'abbiamo completato La mensa l'abbiamo costruita Abbiamo finito il capitolo 2 Ritira compense Ed è capito Perfetto Che figo sto gioco però 1000 carburante 1200 legname E 1000 alimenti 4 minute speed up 2000 di carburante E 600 legname Che sono altri In più Va bene Capitolo 2 è completato Siamo al 3 Invasione nemica E che In che senso Aspetta Ah quanti sono qui Il cadavere rotoloso Nel desert Scossa la terra Aiuto Non abbiamo modo Di ritirarci Abbiamo solo la vittoria O la morte Siamo nei guai ora Gran bella notizia Veramente Non siamo abbastanza Per affrontarli Hai qualche suggerimento E' meglio distruggerli Tutti in una volta Bombardiamo Bombardiamo Che faccio Bombardiamo Build Build Militare Aspetta Che qua voglio bombardare Torre Pronto soccorso Fabbica di componenti Aspetta Che qua siamo fregati Costruiamo Costruiamo La torre Costruiamo Una torre qua Aspetta Aspetta Devo proteggermi Qua la situazione Ok Qua sono Allora Costruisce Un pronto soccorso Aggiornare la residenza A livello 2 La popolazione Della base Raggiunge 160 Attuali garage 2 E upgrade La base A livello 3 Ok ragazzi Gioco veramente Fighissimo Quindi casomai Al prossimo video Ci andiamo a completare Il capitolo 3 Vediamo che cosa Ah invasione chimica Non è mica Invasione chimica Casomai al prossimo video Andremo a completare Anche questo capitolo E vedremo Di fare Anche agli altri Sempre se Voi lascerete Abbastanza like Quindi mi raccomando Lasciate un bel like Vi ricordo che potete Seguirmi anche Sulla page facebook Twitter Instagram Tutti i altri social Di cui trovate Il link In descrizione Iscrivetevi al canale E per oggi è tutto A prossimo video Oggi siamo su Dark Riddle L'ho fatto un casino Di tempo fa Ma adesso abbiamo Il secondo capitolo Però diciamo Che l'obiettivo È rimasto quello Ovvero Andare alla ricerca Di oggetti E cercare di evitare Il vicino Cambiato anche lui È diverso